Questo periodo pandemico ha provocato 4 milioni e mezzo di morti in tutto il mondo. Adesso aspettiamo che la scienza, oltre ai vaccini, scopra anche dei medicinali per uso mondiale che debellino il virus. In Italia ci sono stati circa 4,7 milioni di infettati con oltre 131 mila morti. Molti di questi hanno i vicini, come Eugenio De Crescenzo, cofondatore dell'associazione, strappato ai suoi affetti e dalla nostra amicizia. Per ricordarlo gli abbiamo dedicato il nostro centro ricercazione. Nelle prime tre edizioni abbiamo presentato i pregiudizi, gli stigmi, i problemi che colpiscono le persone per motivi legati alla religione, alla lingua, al sesso, alle condizioni sociali, povertà, indigenza, area geografica di appartenenza, personali, salute, integrità fisica o psichica e della loro razza, indicata nell'articolo 3 della Costituzione. Lascio per ultimo quest'elemento di discriminazione, la razza, perché propongo subito di avviare una iniziativa. Questo termine, che aveva un senso nel 1948, quando alla fine di una lunga guerra mondiale che aveva provocato 20 milioni di morti, fu approvata dall'ONU contro il razzismo, e non solo, la Convenzione internazionale sui diritti umani. E la nostra Costituzione lo introdusse nell'articolo 3, quello che più o meno tutti conoscono, cioè tutti uguali di fronte alla legge, indipendentemente dal sesso, dalla razza, religione, eccetera. Oggi questo termine razza non ha più senso. La scienza ci dice che è da molto tempo che esiste una sola razza, quella umana, e quindi ne proponiamo anche noi l'eliminazione della Costituzione italiana, con quanti antropologi, giuristi, storici, associazioni e cittadini lo ritengono necessario e lo propongono. Tornando a questa edizione, proponiamo di muoverci in positivo, andando oltre, indicando, proponendo e valorizzando stili di vita, capaci di andare appunto oltre, oltre il pregiudizio, oltre i pregiudizi. Stili di vita che la professoressa Gioia Longo che non riusciamo ancora a sentire, che è qui con noi, spero, ha proposto nel manifesto, oltre il pregiudizio che è stato inviato a tutti quanti, che l'associazione ha adottato e fatto proprio. Infatti, il tema e quindi lo stile di vita che proponiamo per questa quarta campagna, desunto dal manifesto, è cura e solidarietà, oltre l'individualismo e l'indifferenza. Cosa avverrà brevemente in queste dieci settimane? La prima settimana sarà dedicata alla salute mentale, il 10 ottobre sarà appunto la giornata mondiale. Grandi sono state ed enormi le difficoltà che nella pandemia hanno dovuto sopportare i pazienti e i loro familiari. In anteprima, oggi, nel pomeriggio, il progetto Itaga alle 18 farà un webinar WorkWorks, il lavoro lavori, inserimento lavorativo per le persone con problemi di salute mentale. Guido, se puoi mettere sulla nostra, sul web della campagna, il link, così magari qualcuno che è interessato può collegarsi oggi. Io comunque vengo. Seguirà domani un'anteprima sulla salute mentale, sviluppata nella Casa della Saute di Aprilia dall'Associazione Arap con i sanitari della struttura. Poi si avvierà, come le precedenti edizioni, il 10 ottobre, la giornata mondiale, il cui tema nel corso di questa prima settimana sarà affrontato dal progetto Itaga Roma in 14 piazze della capitale o luoghi della capitale con il progetto Tutti i matti per il riso. Chi ha interesse a verificare le piazze può andare sul sito di Itaga Roma e lo può verificare. Le settimane seguenti, tutte le altre settimane sono dedicate, la seconda è dedicata a oltre la pandemia, la terza allo sport, la quarta al razzismo, la quinta e la sesta sono due settimane organizzate dal centro ricercazione, di cui vi parlavo prima, sul tema avere cura ed essere solidari. Sono molte iniziative, sono una decina che non erano nell'incambio di tutte qua. Poi ancora successivamente i diritti dell'infanzia e poi la violenza sulle donne, poi i diritti delle persone con disabilità, il volontariato, il visore sui diritti umani. Adesso do la parola agli oratori, però rispondo all'allungo che va chiamato a gioia. Pronto? 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 Non risponde. Siccome doveva parlare lei, spero di parlarci. È cominciata male, speriamo che finisca un po' meglio questa… Ma sì, sicuramente Gianni. Se mai intanto parliamo un pochino noi. Io vi posso un attimo specificare meglio che cosa faremo stasera per il progetto WorkWork. Sì, volevo dedicare… adesso vediamo se mi sente. Pronto? Pronto? Senti, io ti saluto pronto, sì? Sì. E non ce la fai entrare? No, non ce la faccio perché non ho gli elementi minimi per entrare. Ho capito. Mi fa tutta una storia che devo creare a caos. Ah, ok, ok. No, quindi non era preparato, perlomeno nei miei confronti non posso… Guarda, già ci sto combattendo, io guarda, dico che ti do l'informazione, darla tu, che in libro c'è scritto tutto quello che c'è da scritto. Sì, sì, lo so, lo so, lo so, lo so, però… Ma no, no, perché è una zona che combatto con sta roba. Va bene, dai, fammi continuare, Gioia, pazienza. Vedi, se nel frattempo riesci per caso a rientrare, staremo con te molto volentieri. Ma io non rientrare, ma guarda, buonasera, ti saluto con viva cordialità, guarda, che cosa vuoi che ti dica? Va bene, ok. Grazie. Allora, sì, era così, quindi niente. Allora, a questo punto io direi di dare invece, prima di passare la parola ad altri che la chiedono, io darei la parola al professor Roberto Panzarani, che è docente di governo dell'innovazione tecnologica all'Università Cattolica di Roma. perché, diciamo, il tema che proponiamo, che è quello appunto di cura e solidarietà, mischiare la cura e la solidarietà per andare oltre l'individualismo e l'indifferenza, è un tema che riguarda la governo dell'innovazione, quella tecnologica, certamente, che abbiamo appena capito che non ci siamo con il governo dell'innovazione tecnologica, perché Gioia Longo non riesce ad entrare, non so perché, altre cose le ha fatte, e quindi, insomma, stiamo ancora, come dire, alla ricerca di una sistemazione migliore. Comunque, diciamo, lascerei la parola a questo punto a Roberto, proprio, insomma, per sentire quello che ha da dire su questo argomento. Grazie, ma c'era Guido che stava già parlando, Guido, se vuoi terminare, mi dispiace, perché c'era Guido che aveva già iniziato a parlare per dire cosa fate questa sera, quindi, Guido, inizia tu, poi io inserisco con qualcosa, dai. Va bene, va bene, Guido, dai, vai Guido, allora su dai, non facciamo complimenti. Imbarazzo, imbarazzo, non facciamo le formalità tra noi, ci mancherebbe altro. Io suggerivo solamente un modo per andare avanti, senza bloccarci troppo, per avere una dinamicità maggiore nella nostra regione. Va benissimo, allora vi ringrazio. Allora, dunque, innanzitutto, vabbè, complimenti per la campagna, complimenti per l'associazione, e devo dire, Gianni ha fatto bene a ricordare il nostro amico carissimo Eugenio, insomma, quindi a tante di quelle iniziative che lui aveva veramente messo in atto. Io, sì, al di là del governo dell'innovazione, vi parlo di un libro mio che sta uscendo e che parla di questi temi, perché esce il 12 ottobre, si chiama Nuovo Paradigma, lo stiamo lanciando un po' dappertutto, il 12 ottobre faremo su stroncature.com, che è questo nuovo sito, come sapete che in Italia sta avendo molto successo, perché approfondisce tutti i temi del futuro del capitalismo, sostanzialmente, quindi, insomma, è un sito importante, e poi il 19 lo presenterò in presenza, finalmente in presenza al centro Enrico Fermi, a Via Pannisperna, proprio a quello che erano i ragazzi di Via Pannisperna, quindi, insomma, è stato uno, insomma, poi vi manderò l'invito, partecipiamo, finalmente in presenza, insomma, quindi una cosa bella, poi faremo la visita al museo, perché adesso è presieduto da Luciano Pietroniero, che è un nuovo presidente, che lo sta rilanciando molto, e quindi è un'iniziativa molto interessante, con la quale, penso, faremo anche progetti in futuro, ed è un modo anche così, per rilanciare Roma dal punto c'è il museo, ovviamente, che poi visiteremo, ed è, insomma, l'occasione per parlare, e sono contento che aprano le loro attività con la presentazione del mio libro, insomma. Io cosa parlo? Parlo del nuovo paradigma, e perché il futuro del capitalismo è comunitario, quindi è un'affermazione, è una domanda, è una riflessione, e devo dire che le cose che diceva prima Gianni, rispetto alla pandemia, eccetera, che è ancora presente, ovviamente, nel senso che sta meglio nei nostri paesi, ma in altri paesi ancora è una situazione di grande difficoltà, tenere la sotto controllo, e qui nasce il primo tema, cioè il tema della condivisione dei vaccini, che non è un tema da poco, ma è un principio importantissimo, cioè è un principio che significa mettere a comune le basi di fondo per sostenere la salute come diritto fondamentale dell'essere umano. E qui cosa è successo? Se noi, adesso, senza fare grandi discorsi geopolitici, però, insomma, avvenendo esempi concreti, ci siamo resi conto, proprio in questa pandemia, la drammaticità degli anima spiriti del capitalismo, chiamiamolo selvaggio, insomma, quello che ci ha dominato dal 2008, fino al 2008 in modo molto violento con la crisi finanziaria, però ancora poi non ci ha lasciato sostanzialmente, e quindi ci porta ad una riflessione di fondo su quello che dovremmo fare. Se pensiamo che il paese più ricco del mondo ha avuto il maggior numero di vittime, quindi ci dice che il valore della salute non è il valore di questo capitalismo, sostanzialmente, dei suoi cittadini, tra l'altro, che dovrebbero essere, che nascono e vivono nel paese più ricco del mondo, come viene detto. Quindi questo è uno dei principi fondamentali su cui in futuro dovremmo riflettere. Questa volta c'è stata la pandemia, ma accanto alla pandemia chissà quanti altri temi, appunto, salute mentale e tutto il resto che appunto ci porta poi a questa dimensione. Tra l'altro salute mentale è da non trascurare, perché è un indotto molto grande, con numeri rilevanti a causa della pandemia. Quindi diciamo che non è che si possa aprire e chiudere qui, ma è un discorso che avrà delle conseguenze molto successive, molto importanti. Pensate a chi ha perso i suoi cari, a famiglie totalmente distrutte. E io l'altra sera ho partecipato a un webinar sull'America Latina, che io frequento continuamente, mi dicevano che per esempio in Perù il numero delle vedove è decuplicato in questo momento. Quindi abbiamo paesi, si parlava di imprenditoria femminile, perché in questa situazione è stata drammatica la situazione del Perù, anche in termini numerici, e quindi c'è una società che si va ridisegnando. Ecco, cioè non solo dal punto di vista della ripresa economica, ma dal punto di vista anche demografico. Cioè quindi da dove i numeri sono minori ci sono state delle ripercussioni fortissime. Quindi ecco, diciamo che questo fenomeno tra l'altro appunto della pandemia è molto difficile da analizzare, siamo ancora dentro, quindi da qui a poco però trovarne delle linee di fondo per analizzarlo per il futuro, per capire le conseguenze del futuro è molto importante e farlo anche fin da adesso. Ecco che quindi, insomma, ecco, si parla prima di razza, No, cioè noi oggi finalmente qualcosa, il discorso di togliere i brevetti ai vaccini, cioè un discorso assolutamente inaccettabile fino a qualche anno fa, adesso si inizia a farlo per egoismo, magari dicendo guarda che se comunque non curiamo anche gli altri paesi, l'Africa che qui da noi avanti potremo avere conseguenze in futuro, oppure perché no, ci si crede, ci si crede al vaccino come bene comune, ma utilizzando il vaccino come metafora di tantissime altre cose ovviamente. Da qui la salvezza del pianeta, nella situazione in cui siamo assolutamente disastrosi e quindi diventa un interesse per tutti. Però farlo diventare un interesse per tutti è un grande lavoro, quindi noi abbiamo tra l'altro nel Recovery Plan queste due direttive appunto fondamentali che non sono solo per l'Europa ovviamente, secondo me sono per il mondo interno, cioè la transizione ecologica e la transizione digitale. Ecco, se non le curiamo approfonditamente, al di là di quelle che sono appunto le tematiche puramente tecniche o scientifiche, ma con una visione della società completamente diversa, non ne verremo fuori. Quindi ecco, questo è un tema fondamentale. E poi diciamo la parte, si diceva proprio all'inizio, diceva Gianni, la parte demografica è importantissima. Cioè chi, io vedo difficoltà anche proprio nell'implementazione da noi di un processo di transizione ecologica. Abbiamo pochi giovani, abbiamo pochi giovani rispetto a quello che ci sarebbe bisogno per il futuro, per disegnare il futuro. E quindi dobbiamo pensare ad un'integrazione sempre più importante con persone che vengono magari da altri paesi, ma che non possiamo appunto lanciare o, come dire, letteralmente lanciare nelle stazioni delle città, abbandonarli. No, dobbiamo avere un progetto su questo, l'integrazione è molto profondo, perché anche qui è l'interesse di una costruzione di un paese che sia più eco, ma anche più attivo, perché noi abbiamo bisogno di questo tipo di risorse. Quindi ecco, sono discorsi molto profondi che naturalmente siamo riusciti a fare e a pensare, a riflettere anche a causa della costruzione pandemica, ma su cui dobbiamo riflettere assolutamente in modo fondamentale, diciamo, fin da subito, se no non avremo neanche le forze per fare questo passaggio. Quindi come ridisegniamo appunto una società del futuro a fronte di una tecnologia sempre più esponenzialmente veloce, che appunto ci porta a intelligenza artificiale, a tutto quello con il quale siamo coinvolti, e di fronte invece a uno stato sociale così dissolto, così poco costruito, così abbandonato da questo punto di vista. E vediamo le istituzioni politiche molto povere da questo punto di vista. Noi in questo momento abbiamo una persona che ci rappresenta all'estero molto bene, con grande responsabilità, con una sua biografia personale importante, ma da qui il resto della forza politica c'è una grandissima povertà nel disegnare la cosa del futuro. Quindi è una cosa al momento provvisoria, ma non è il disegno di una società che si basa su principi diversi, perché quelli che abbiamo usato fino ad adesso non hanno funzionato. E quindi su questo dobbiamo riflettere, su una partecipazione politica che sia, diciamo, in un disegno veramente di una società differente e non solo pensare alle ultime elezioni come al solito questo avviene. Si è detto tante volte, pensare per la prossima generazione è ben diverso da non pensare solamente alle scadenze fra un anno o due anni, quello che è. Allora, è sempre stato così, è sempre stato importante. Oggi, a seguito di quello che abbiamo avuto, ancora di più. Non vale solo per noi, ovviamente, vale per il mondo intero, lo stiamo vedendo. Ecco, quindi c'è una mancanza, se volete, anche di leadership da questo punto di vista nel mondo. laddove ci sono degli esempi positivi, secondo me vanno presi, laddove ci sono esempi positivi anche da cittadini che si auto-organizzano, che portano esempi positivi di funzionamento delle cose, perché indirizzate alla condivisione di beni comuni, vanno presi, vanno rilevati. Io cerco di dirlo anche nel libro, cerco di riportare esempi di questo genere. È stata sempre una mia passione da questo punto di vista, perché è lì anche che si fa politica da questo punto di vista. ed è importante riportare questi esempi a condivisione. Il terzo settore in questo è un bacino enorme, ricchissimo di esempi, di modelli di nuova società, che secondo me andrebbero ancora più condivisi a livello quasi strategico ormai, perché la politica tradizionale non ha questi strumenti. Quindi questo, secondo me, è uno dei punti fondamentali. Quindi, insomma, non vorrei prendere altro tempo, vorrei dire semplicemente che, certo, oltre al pregiudizio non è solamente una questione etica, morale, ma secondo me ci aiuterà a definire una nuova economia nel futuro. E quindi ecco che diventa con un peso assolutamente più rilevante. I principi che ci sono nel manifesto, i bellissimi principi che avete appunto rilevato, suggeriti dalla professoressa, io penso siano fondamentali non solo appunto per superare il pregiudizio delle persone, ma nella costruzione della società del futuro. Quindi ecco, su questo dobbiamo essere veramente convinti e da oggi in poi, insomma, come dire, non possiamo stare a casa, assolutamente no. Dobbiamo muoverci per costruire questa società abbastanza in fretta, perché i tempi ormai non vengono definiti da noi, ma dalle emergenze appunto mondiali, internazionali, che sono appunto il pianeta e sono tutta una serie di altre cose su cui dobbiamo ridefinire il nostro futuro. Per il momento mi fermo qui e intanto grazie. Grazie, grazie Roberto. Molto interessante il punto di vista, perché aperto sul futuro, aperto sul futuro che è sicuramente, diciamo, piuttosto plumbeo, non c'è chiarezza e quindi è scuro. C'è tutto il tema dell'ambiente che tu stesso evocavi, Roberto, che è un tema così particolarmente pericoloso, perché poi alla fine, insomma, si vedono già gli effetti e i morti e le catastrofi che questo sta creando, insomma. In qualche modo è la terra che si ribella, poi vegea, che si ribella a questo uso scriteriato facendo quello che può, insomma, reagendo. E questo dipende da noi, certo. Questo è un po'. Va bene. La Gioia Longo ha definitivamente abbandonato, non ce la fate. Poverina, ci ha provato. In tutti i modi. Siamo un'altra occasione. No, vediamo ancora… Intanto che aspettiamo che arrivi anche Francesca Danese, perché il tema del terzo settore, tu stesso l'hai evocato, è importante perché… Assolutamente sì. Nella nuova, in questa immagine nuova, che comunque inevitabilmente sta nascendo, a seguito della pandemia, inevitabilmente sta nascendo, c'è un ruolo per le persone, ma ci sono molte, tante, troppe forse, persone che hanno disabilità di tutti i tipi che per i quali l'ha trovato un posto, l'ha trovato un luogo, perché quello nel quale sono stati adesso, diciamo, potrebbe non esserci più, potrebbe non esserci più una assistenza come è stata fatta, fino a oggi. Certo, non è auspicabile, assolutamente, però, diciamo, mettiamo nel conto tutto questo, che le possibilità, che le cose peggiorino, invece che migliorare, è che questa città futura sia non quella di Tommaso Campanella, che era la città delle bellezze e dell'oro, ma una città invece della depressione e di pochi che comandano. Stamattina mi è arrivato un messaggino da Amazon che mi ha detto, dice, noi siamo cresciuti quest'anno del 41%, perché non investi 200 euro su di noi? Così fai soldi pure tu? Ecco, questo è il messaggio, così fai soldi pure tu. Va bene, io lo lascio come questo, insomma, adesso anche apro ad altri interventi, Guido prima stava parlando, gli lascio la parola. Grazie, grazie, grazie. Va bene. Roberto, complimenti per il tuo nuovo libro, verrò volentieri ad ascoltarti. Con un enorme piacere ti aspetto, almeno ci vediamo, mi fa con un enorme piacere. Aspetto tutti. Ho condiviso veramente tanti stimoli i vostri interventi, mentre vi ascoltavo, riflettevo anche su questa immagine evocativa di Papa Francesco, sul discorso della società dello scatto, che lui ha citato. E anche ieri ha detto che bisogna produrre meno fucili e più vaccini, distribuire meno nitra e più vaccini, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Quindi sicuramente siamo chiamati, abbiamo l'opportunità, il Covid ha costruito tanta sofferenza e qualche opportunità che vi sguai a noi se non le cogliamo e non le sfruttiamo a dovere in tutte le direzioni. E quindi mi piace pensare che abbiamo l'opportunità di passare da una società dello scatto, da una società del consumo che brucia tutto e rende tutto liquido, passare a una società un pochino più equilibrata, un po' equa, più attenta anche alle persone che hanno bisogno. Io in particolare, dopo tanti anni di lavoro nello sviluppo dei sistemi economici, voi sapete il mio percorso un po' con Omis, un po' con nel terzo settore, poi alla fine mi sono fermato e dedicato animo e corpo alla salute mentale, perché ho trovato qui la mia vera, insomma, il settore che più mi appassiona, mi interessa e nel quale credo, per cui ormai da più di dieci anni mi occupo di salute mentale, in che senso, perché io non sono né psicologo né psichiatra, io nasco in realtà come sociologo e appassionato di economia. A me interessa la salute mentale perché mi interessa avere l'opportunità di lavorare in maniera pratica con persone che hanno tanti talenti e che la nostra società non li riconosce. io lavoro continuamente con persone che sono state scartate dalla nostra società, da questa società del consumo e che invece hanno tantissime risorse, bisogna avere la capacità e la pazienza di aiutarli a far emergere questi talenti e poi dare loro un'opportunità, una chance di mettersi in gioco e di creare per se stessi e per la società qualcosa. così da non essere più uno scarto e persone che dipendono dalla pensioncina che gli passa, quella piccola pensioncina che gli passa allo Stato. Ecco, questa è una delle soluzioni e nel mio piccolo cerco di portarla avanti al meglio è quella di aiutare le persone con disabilità mentale a tornare operativi, attivi, produttivi, ad avere un ruolo nella società e nel mondo del lavoro. E questo poi il tema che tratteremo stasera con il progetto WorkWorks che sta a significare che il lavoro funziona, cioè per aiutare le persone con una storia di disagio mentale a ritrovare la voglia di rimettersi in gioco è necessario offrirgli l'opportunità di mettersi all'opera e fare emergere i talenti e dare significato alla loro esistenza al loro tempo in maniera produttiva. Noi abbiamo un metodo che è questo metodo del Clubhouse International di cui sono diventato modestamente un pochino esperto ed è un sistema che funziona, un metodo che funziona e stiamo aiutando a più persone che si può nel nostro piccolo perché poi ci sono tanti limiti. In questo modo noi andiamo anche oltre il premio di un disagio mentale di chi è stato scartato e mi piace soffermarmi sul concetto di andare oltre il pregiudizio perché voi sapete che ho avuto il piacere e l'onore con Gianni mi chiamò all'inizio di questa avventura e insieme poi abbiamo fatto le varie campagne e insieme abbiamo anche scelto di chiamare l'associazione oltre il pregiudizio perché perché l'impegno della nostra associazione è quello di aiutare la nostra società diciamo la cultura generale a andare oltre i pregiudizi noi non vogliamo combatterli noi non siamo qui per uno scontro come si faceva un po' negli anni settanta c'era questo scendere in piazza per scontrarsi con chi aveva il potere noi non ci scontriamo noi vogliamo seminare cultura vogliamo aiutare la società le persone ad andare oltre questi pregiudizi ecco a me quindi piace molto soffermarmi su questo aspetto per cui nella salute mentale il compito che io cerco di portare avanti è quello di sensibilizzare aiutare le persone a superare noi li chiamiamo stigmi verso superare lo stigma e andare verso chi soffre di un disagio mentale e aiutarlo a reinserirsi dal punto di vista sociale e lavorativo ecco questo credo che sia il tema che tratteremo stasera ma anche nei prossimi sabato e domenica staremo nelle piazze proprio per parlare con le persone porteremo i nostri assistiti quindi pazienti psichiatrici che fino a prima della legge basale avevano chiusi dentro un sanatorio i cosiddetti manicomi ecco adesso invece andiamo nelle piazze incontriamo le persone in maniera positive in maniera sorridente offriamo un cadeau che è il nostro simbolo ed è il riso per questo noi chiamiamo le giornate tutti matti per il riso abbiamo dato questo titolo un po' ironico perché portiamo il riso simbolicamente diciamo il riso significa tante cose comunque è legato all'abbondanza alla fecondità a un aspetto positivo delle esistenze ecco quindi noi regaliamo qualcosa di abbondante che porta fecondità in cambio chiediamo una piccola donazione perché come dire a noi non ci riconoscono le sovvenzioni di nessun tipo quindi dobbiamo un po' accampare con quello che riusciamo a raccogliere e sabato e domenica scenderemo nelle piazze a sensibilizzare le persone certo quelli che si faranno avvicinare perché molti temono il discorso della salute mentale scappano però quelli che si fanno avvicinare che hanno voglia di dialogare con noi troveranno persone che soffrono di schizofrenità di disturbo schizofrenità di disturbo bipolare di depressione maggiore di disturbi del comportamento troveranno bipolari borderline cioè abbiamo un po' di tutto non ci manca niente tutte persone simpaticissime piene di talenti e che si metteranno in gioco per raccontare a quella parte cosiddetta sana della società che cosa significa vivere con il disagio mentale e quanto potenziale c'è in noi ecco questo volevo raccontarvi per quello che faremo nella campagna oltre pregiudizio verso la salute mentale poi c'è anche questa bellissima iniziativa Latina che è stupenda con l'ARAP di Latina che coinvolge persone professionistiche che lavorano Latina è Aprilia Latina è la provincia ah scusa Aprilia e va bene ma lascio la parola a voi perché io ne ho parlato ieri con Giovanni mi ha raccontato bene e trovo che sia una cosa eccezionale quindi lascio a lui poi di raccontare meglio quindi oltre il pregiudizio quest'anno sul discorso salute mentale mi sembra abbastanza impegnato che porta avanti un discorso abbastanza concreto grazie 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 di abitazione cura giustamente però per una questione di specchio le diverse disabilità anche della salute mentale magari il paziente fasse anche le difficoltà di altre particolarità della salute mentale quindi noi partiamo in modo diverso da quello che ITAC fa sul territorio ma rivendichiamo la riavversione da parte delle strutture pubbliche perché la prima riavviazione si fa presso le strutture pubbliche poi successivamente successivamente giustamente c'è il terzo settore che opera benissimo infatti ci ha detto già diverse attività che fa il presidente di ITAC la problematica nostra è proprio questa che nei tagli che vengono fatti sulla salute pubblica purtroppo il taglio maggiore è sulla salute mentale perché questo perché il nostro ambiente o familiari o pazienti soffrono una situazione di ansia di vergogna eccetera il primo stigma ce l'abbiamo noi familiari per accettare la situazione per i nostri parenti poi bisogna aiutare il nostro familiare a riconoscere di avere bisogno di aiuto perché se non si chiede aiuto e non si accetta quindi non non si contribuisce perché il paziente deve creare un'empatia con l'operatore sanitario e se non partecipa quindi rifiuta la cura ma questo è portato proprio dallo stigma della malattia stessa dice quindi noi abbiamo bisogno di tante attività riabilitative partendo parlo delle strutture pubbliche dal diurno dal diurno che c'ha bisogno di fisioterapeuti e operatori sociosanitari tecnici alla riabilitazione fisiatrica infermieri eccetera però dovrebbe essere questo personale sanitario dovrebbe essere affiancato per tutte le attività riabilitative perché questo è l'aspetto sanitario tutte le prime attività riabilitative da volontari tipo quello che fa ITAC eccetera ma presso la struttura pubblica siccome il personale sanitario è carente parlavo prima dei tagli dice e non 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 ce la fa se manca l'assistente sociale e chi fa i progetti riabilitativi da inserire nei piani di zona dove la regione poi dà la copertura al progetto personale personalizzato che il team che tiene in cura il paziente propone al familiare e al paziente il carico amministrativo spetta in base ai bilanci di competenza degli antigestori viene ripartito tra gli antigestori se questi progetti non vengono inseriti perché mancano anche i moduli di far bisogno tanti pazienti tanti progetti tanta disponibilità economica per coprire i progetti che vengono fatti quindi diciamo che la struttura pubblica è impossibilitata proprio per questi motivi perché la regione non può assegnare e non può aggiornare in base a far bisogno dice quindi per questi problemi operativi che ci stanno presso le strutture pubbliche della salute mentale e noi specialmente familiari che provengono dalle province Roma meno male che è città capitale ha diversi municipi quindi c'ha 5 RM compresa la sesta e i castelli romani dice noi abbiamo molte di più di difficoltà facciamo esempio ieri parlavo con l'amico scusa se ci siamo conosciuti ieri personalmente che ci sono persone che fanno parte del nostro distretto perché il mio distretto è LT1 Amere Cisterna Cori Roccamassi e facciamo parte dell'Ast di Latina se nel distretto il centro di salute mentale è comune Abrilio e Cisterna siamo proprio così Abrilio e Cisterna se le città che usufiscono lo stesso servizio dove il personale è sparmato sul territorio quindi significa che non funziona nel Cisterna nel CSM del Cisterna e nel CSM da Abrilio proprio questa problematica qua quindi la persona che viene prima riabilitata nel diurno sulla prima riabilitazione successivamente dovrebbe continuare il tipo di riabilitazione presso altre strutture o pubbliche o del terzo settore e siccome Abrilio e Cisterna non sono ben collegate che succede? che un paziente di Cisterna fa prima col treno Roma-Napoli in 15 minuti arriva a Roma e che venire ad Abrilio a CSM di propria competenza per usufruire dell'assistenza del diurno che c'è e l'unica struttura è quella di strutture pubbliche delle difficoltà territoriali che si sono create e che si creano per una cattiva organizzazione questo mi pare che sia il tema vero? Sì non per responsabilità da parte degli operativi spesso non è che c'entrano poco Sì proprio perché per il ritorno allo stit ma siccome la AS è diventata un'azienda un'azienda e i dirigenti in base alle disposizioni regionali e nazionali sono valutati in base a quanto fanno risparmiare all'ente logicamente il funzionario taglia perché è così e quindi il taglio che viene fatto su tutta la sanità pubblica maggiormente viene fatto sulla sanità mentale ecco lo stigma che noi abbiamo sulle spalle e che vorremmo insieme a questa rete di associazioni proprio parlando dello stigma che subiscono anche gli operatori del servizio sanitario mentale all'interno delle stesse strutture diciamo pubbliche dei servizi pubblici nei casi della salute eccetera e noi abbiamo solo la casa della salute non c'è ospedale non c'è altre strutture pubbliche quindi anche per il SPTC per il GDSO eccetera dice questa è una situazione scusa se ti fermo di cui possiamo domani si parlano appuntantemente domani mattina perché domani mattina da aprile faremo una lupo sarebbe presente e noi faremo una diretta approfitto che c'è Valentini che ha parlato di inserimento lavorativo quindi tipo questo che noi domani avremo dei rappresentanti di formazione lavoro di formazione lavoro l'abbiamo invitato eccetera ho avuto una telefonata adesso che ha ricevuto da Marco mentre io stavo parlando con voi hanno detto che non possono intervenire che per impegni per impegni sono tutti impegnati non possono intervenire in diretta però gli possiamo da per e-mail la domanda però mi sta dicendo in diretta Marco che gli possiamo mandare il link di collegamento e via scarletta e via scarletta magari potrebbero intervenire lo stesso questo perché la formazione lavoro è importante quando parlavo di antigestori Gianni scusa scusa se ti fermo Gianni scusa se ti fermo domani è tutta dedicata domani è tutta dedicata a questa adesso serviva fare diciamo una presentazione un'anteprima un po' delle situazioni che hai fatto che hai fatto egregiamente io volevo chiedere a Roberto se a Luna ha detto che doveva andare carissimi insomma c'è una frase di saluto finale da darci e poi ci rincontriamo nei prossimi ma possiamo guardare vi ringrazio mi scuso c'è lezione adesso entriamo entriamo sempre in dad purtroppo ancora ma speriamo quanto prima di poter ritornare all'università e quindi mi scuso di questa cosa che avevo detto appunto a Gianni ma possiamo ricordarci questa frase di questo futurologo William Gibson che lui diceva il futuro è già qui ma non è ben distribuito è mal distribuito quindi il nostro compito è di riuscire a distribuirlo meglio come appunto si diceva prima tutti gli esempi concreti poi alla fine si vede quanta distanza c'è ancora dall'assicurare un futuro decente alle persone per tutti quindi è un grandissimo impegno vi ringrazio ancora tantissimo e mi scuso se me ne devo andare però sono stato molto felice di partecipare anche se per breve tempo e ci ritroveremo senz'altro presto e chi vuole il 19 mattina dai ragazzi di via Parnisperna alle 10 si presenterà il mio libro arrivederci a tutti grazie ciao 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 adesso c'è Tina che sta qui che non so se vuole per caso intervenire e raccontare un po' del progetto che si sta terminando presso il carcere di Casal del Marmo con i ragazzi con i ragazzi e le ragazze recluse però non era previsto quindi diciamo lo dico soltanto per riempire per dare un'ulteriore indicazione altrimenti altrimenti ci dobbiamo come dire aggiornare alle prossime alle prossime iniziative quella di stasera da guido quella di quella di domani e poi il 10 vediamo che si fa e poi seguiremo con le altre con le altre iniziative ancora meglio sperando con una presenza diversa forse l'orario questo è pessimo perché probabilmente altri è la mattinata e la mattina si lavora forse bisognerà pensare di fare questi webinar in un altro orario vediamo ne parliamo e vediamo se per caso l'orario favorisca di più la partecipazione di molti che sono stati invitati e che non ce l'hanno fatta compreso molti componenti del direttivo compresi molti componenti del direttivo va bene quindi io saluterei e ci aggiorniamo oggi pomeriggio e domani mattina con Guido e con Gianni Cinconze Cinconze grazie a tutti e arrivederci grazie Gianni ciao arrivederci